Ciao a tutti e benvenuti in un mio nuovo video, in questo video voglio mostrarvi gli acquisti che ho fatto nell'ultimo periodo, negli ultimi due mesi, un mese e mezzo. Cercherò di mettervi i link di questi libri, link affiliati ad Amazon, non so se ci riuscirò perché effettivamente sono tanti. Vi chiedo di lasciare un commento, lasciare un like al video e iscrivervi al mio canale se ancora non l'avete fatto. Allora, non mi soffermerò sulle trame dei libri perché altrimenti il video viene lunghissimo, ma vado così. Allora, il primo libro che vi mostro è La custode degli spiriti, è di Sofazzi Editore, il prezzo di copertina è 9,90, l'ho pagato 2 euro, era in super offerta, nuovo, 2 euro, quindi l'ho acquistato, era un libro che volevo da tanti anni e alla fine sono riuscita a comprarlo. È un libro che ho già letto, mi è piaciucchiato e ve ne ho parlato nelle letture di febbraio, vi lascio il link di quel video tra le schede, così potete insomma andare a vedere se vi può piacere o meno, comunque questo appunto l'ho letto. Ci sono stati poi gli sconti Burr, i libri Burr erano scontati del 20%, in più sul sito IBS avevo un ulteriore sconto del 5% e anche un buono, perché IBS ogni 2x3 mi manda dei buoni. E quindi cosa fai? Non acquisti? Certo che acquisti. E ho acquistato dei libri della linea Burr Deluxe, che è una linea di libri bellissima, veramente bellissima, io avevo già Canto di Natale, ve ne avevo parlato nei video precedenti, sono edizioni fantastiche. E che cosa ho acquistato? Ho acquistato La Regina delle Nevi e altri racconti che ho attualmente in lettura. Questo qua è un libro che comprende appunto la storia della Regina delle Nevi, c'è anche La Sirenetta, La Principessa sul pisello, Vestiti nuovi dell'imperatore e mi sembra altre due o tre storie. Questo qua, il prezzo di copertina, è di 16€ e sono dei libri meravigliosi, copertine bellissime, illustrazioni stupende, la scrittura è anche abbastanza grande, sono dei libri veramente belli. E approfittando appunto di questi sconti, ho voluto prendere questo. Sempre della stessa linea, ho preso poi I Promessi Sposi, che è un libro che, questo in particolare non ho letto, però io I Promessi Sposi li ho letti per scuola, ma proprio ho letto anche tutto il libro. E non è così male se non siamo obbligati a leggerlo per scuola, ripeto. Prezzo di copertina 20€, anche qua abbiamo delle illustrazioni, in questo caso in bianco e nero. Vabbè, la storia dei Promessi Sposi la conosciamo tutti, ed è veramente una bellissima edizione. Sono proprio edizioni belle. E l'ultimo libro della Burr che ho comprato è Miti Greci. Eccolo qua, è un insieme appunto di miti greci. Io adoro la Grecia, i suoi miti, tantissimo, cioè proprio sono affascinata da sempre. E anche qua abbiamo delle belle illustrazioni, una bellissima edizione, io queste edizioni ve le consiglio. Mia sorella con gli sconti si è presa Moby Dick e lo schiaccianoci mi sembra, se non sbaglio. Comunque, sono dei libri magnifici proprio esteticamente, ve li consiglio. Non costano neanche tantissimo se si vanno a paragonare ad altri libri che costano uguale e esteticamente sono brutti. Poi, parlando di cose belle, ho acquistato il drago di Alice, Dorothy e Wendy, che è questo qua. Ed è bellissimo, è veramente fantastico. Abbiamo le pagine dorate, questa bellissima edizione, veramente stupenda. All'interno abbiamo le avventure di Alice nel paese delle meraviglie e attraverso lo specchio. Abbiamo il meraviglioso mago di Oz e poi Peter Pan e giardini di Kensington e Peter e Wendy. Veramente anche qua un'edizione bellissima. Una volta che ho terminato La Regina delle Nevi, che ho talmente lettura, leggerò questo qua. Sono veramente delle edizioni belle da collezione. Altra edizione bella è questa che ho preso in edicola, La Guerra dei Mondi, un libro che volevo da tanto tempo, che però ancora non avevo acquistato e appunto l'ho acquistato prendendo questo qua in edicola, che secondo me sono delle belle edizioni e costano poco perché costano 12 euro. Anche qua abbiamo delle illustrazioni. Un libro molto bello. Su Inted ho fatto vari acquisti e ho fatto secondo me anche vari affari. Il primo affare è questo. Io ho acquistato due libri insieme, che sono questi due, a 2 euro, quindi 1 euro l'uno l'ho pagato. E sono dei libri nuovi di zecca, profumano di nuovo pagine nuove. Allora, il primo libro è Kill Creek, edito Rizzoli. È un horror che volevo acquistare da tanto. Il prezzo di copertina è 19 euro. Io avevo sentito parlare benissimo di questo libro. Tutti lo descrivevano come l'horror degli horror. Un libro spaventosissimo e paurosissimo. Io l'ho letto, l'ho terminato da poco. E non mi ha fatto per niente paura. Ve ne parlerò poi nelle letture di marzo. Ma boh, non lo so. A me non ha fatto un pazzire. L'altro libro che ho acquistato, invece, aveva il prezzo di copertina di 14 euro. Ed è Good Omens. Non so se si dice così. Comunque, Le belle e accurate profezie di Agnes Natter, strega. E questo è un libro scritto da Neil Gaiman, che io adoro, e Terry Pratt. Pratt. Niente, ancora non l'ho letto, però era un libro che volevo leggere da un bel po'. Tra l'altro credo che sia uscita una serie, un film, su, non so dove, su Prime Video, di questo libro. Poi, altro libro che io volevo da una vita, veramente anni, e che ho comprato perché, invece, di 12 euro nuovo, l'ho pagato 2,50 euro, mi sembra. È La Corsa delle Onde. Edito Burr, quindi anche questo era scontato del 20%, più gli sconti che c'avevo, bla bla bla. L'ho pagato 2,50 euro. E niente, è un libro, a parte la copertina che mi piace un sacco, lo volevo leggere da tantissimo, quindi anche questo non vedo l'ora di leggerlo. E vi farò poi sapere, se l'avete letto fatemi sapere. Poi, sempre su Vinted, ovviamente vi lascio anche il link del mio Vinted e quello di mia sorella. Ho acquistato a 1 euro invece che 13, sempre di Neil Gaiman, American Gods. Anche di questo è stato tratta una serie tv su Prime Video che io ho guardato e mi è piaciuta molto. Tra l'altro il protagonista è anche belloccio. E niente, era da tantissimo che volevo leggere il libro e finalmente l'ho preso. Ho acquistato gli altri due libri per completare la trilogia della Bardugo, del Grishaverse, e quindi ho preso Rovina e Ascesa, Assedio e Tempesta, questi due, erano quelli appunto che mi mancavano. Questi sono gli unici libri insieme a quello di Oscar Draghi che ho pagato a prezzo pieno. Poi, ho acquistato di James Patterson, Quando soffia il vento. Allora, questo libro in realtà io l'ho già letto e mi era piaciuto tantissimo. Questo qua veniva a 9 euro e io l'ho pagato 2 euro. E è di Tutea. Ho dovuto ricomprarlo perché con il trasloco, quando sono venuta qua a stare dai miei, i libri li avevo giù in garage perché non c'era tanto posto. E ho scoperto che giù in garage prendevano un umido pazzesco, quindi tanti libri li ho dovuto buttarli via perché erano irrecuperabili. E quelli più belli, che mi sono piaciuti di più, ho voluto acquistarli nuovamente. E questo è uno di quelli. Mi era piaciuto, ho voluto riprenderlo. E ho preso anche, che però non ho qui da mostrarvelo perché me ne sono scordato, I misteri della giungla nera di Emilio Salgari. Anche quello mi era piaciuto molto, si era sciupato, quindi l'ho riacquistato. Anche quello ho pagato, quello mi sembra 3,90. E quindi niente, comunque sono libri che ho già letto e questo appunto ve lo consiglio perché è carino. Poi da questo libro James Patterson ci ha tratto una serie, ci ha tratto una serie di libri che si chiamano Maximum Ride, però devo dire che questo libro mi è piaciuto di più. Inoltre James Patterson è famoso per i gialli e i thriller e tutti i suoi libri, compreso questo, hanno dei capitoli cortissimi, anche di una pagina, due pagine, veramente. Il capitolo più lungo può avere massimo quattro pagine, quindi aiuta anche molto a leggere il fatto di avere dei capitoli così brevi. Poi, altro libro che ho acquistato perché era sciupato e quindi ho dovuto buttarlo, tra l'altro avevo una copia vecchissima, il lire era già sciupata quando l'ho presa, quindi figuriamoci, si tratta di Profumo. Questo è uno dei miei libri preferiti in assoluto, è un libro che a me è piaciuto moltissimo, è stato tratto anche il film, che è un bel film, ma il libro è molto meglio, perché per come è scritto proprio sembra quasi di sentirli quei profumi o quei puzzi, non solo profumi, ve lo consiglio assolutamente perché è un bellissimo libro pagato, questo l'ho preso al libraccio, ho pagato 5 euro, mi sembra. Ho preso Bestly, non so se si dice così, questo qua che è una rivisitazione della Bella e la Bestia, anche questo ho pagato 1-2 euro, pochissimo, prezzo di copertina 7,90, si trova comunque a pochissimo su IBS, sul libraccio, ovunque, costa pochissimo e non lo so, è scritto piccolissimo, non so se mi piacerà, c'è stato tratto un film, una serie tv, che mia sorella ha detto fa schifo, quindi speriamo che il libro sia meglio. Ed infine ho preso dei libri di Tolkien e così ho terminato tutto il ciclo, ho preso, in realtà mi è stato regalato per il compleanno la caduta di Gondolin, Beren e Luthien, questi due, e poi ho preso il Sil Marillion, praticamente c'è un po' di confusione su Tolkien, su come va a letto, tanti dicono di leggere prima Il Signore degli Anelli, poi gli altri libri, prima Lo Hobbit, eccetera, in realtà no, in realtà c'è una cronologia di libri, perché questi libri sono tutti ambientati nel solito posto, in ere diverse, quindi se bisogna seguire un ordine cronologico, un po' come leggere dei libri che parlano della storia del nostro pianeta, parti dai dinosauri e arrivi ai giorni nostri, non è che vai a leggere un po' in qua e là, quindi il primo libro da cui partire è Il Sil Marillion, dopodiché ci sono tutti gli altri, libri, c'è appunto, ci sono questi due, poi viene Lo Hobbit, poi Il Signore degli Anelli, c'è tutto un filologico, caso mai, se poi siete interessati di sapere com'è che si leggono questi libri, ve lo scrivo giù nell'infobox, così lo sapete, ecco, c'è un ordine, non è che si leggono a caso, per carità si capiscono lo stesso, perché ogni libro è autoconclusivo, quindi in realtà si possono leggere in che ordine vi pare, però io vi consiglio di seguire proprio la linea cronologica dei libri, in modo da avere una storia proprio del mondo che ha creato Tolkien. Ok, quindi, detto questo, il video finisce qua, spero di non avervi annoiato, e vi ripeto, se vi è piaciuto, lasciate un like, iscrivetevi al mio canale, lasciate un commento, in questo modo mi aiutate a crescere, io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!